L'11 giugno 2013 resterà una data importante nella storia di Palermo e del suo consiglio comunale. In questo giorno infatti i consiglieri, alla presenza dell'intera squadra di governo cittadina guidata dal sindaco Leoluco Orlando, hanno votato a maggioranza l'istituzione e la disciplina del registro comunale delle unioni civili. Preso atto della presenza del sindaco in aula, diamo la parola al sindaco per illustrare l'atto deliberativo. Grazie sindaco. Grazie signor Presidente, grazie signori consiglieri. In realtà io illustro un atto deliberativo che però è un atto della città di Palermo, del consiglio comunale, non è certamente un atto della cosiddetta amministrazione attiva, è una delibera quella che viene proposta che cerca di interpretare il ruolo di un'amministrazione comunale. Noi siamo chiamati, abbiamo l'onore di rappresentare la città di Palermo e il nostro campo di azione sono i diritti di cittadinanza. Noi non abbiamo competenze al di fuori di quello di riconoscere la cittadinanza e i diritti adesso collegati. lo facciamo attraverso la formale consegna dell'atto di cittadinanza a chi acquisisce tutti i requisiti necessari per esso. Diamo la cittadinanza onoraria, la diamo anche, come abbiamo fatto recentemente, ai figli di immigrati che sono nati a Palermo, sono nati in Italia e che è una legge ancora legata allo ius sanguinis e che non rispetto allo ius soli impedisce di essere considerati fino in fondo cittadini di questa città e cittadini di questo Paese. Siamo nell'ambito proprio dei diritti di cittadinanza, di quei diritti di cittadinanza che hanno registrato e registrato anche momenti di straordinaria tensione etica. Voglio ricordare quello che è accaduto qualche settimana fa, quando, come tutti i lunedì, presso l'assessorato competente si consegna la cittadinanza a chi ha avuto appunto il provvedimento previsto dalla vigente normativa. Era previsto che venisse concessa la cittadinanza italiana ad un residente a Palermo, il quale a mezzogiorno non si è presentato come avrebbe dovuto presentarsi. Non si è presentato e ha telefonato alle 12.15 parlando con l'assessore e dicendo all'assessore l'assessore io purtroppo ritardo, non riesco ad arrivare puntualmente, sono in ospedale ma sto riuscendo a farmi dare il permesso di uscire dall'ospedale. L'assessore ha detto ma non si preoccupi, può tornare lunedì prossimo, noi tutti lunedì provvediamo alle formalità necessarie per la cittadinanza italiana a Palermo. Questo signore insiste dicendo la prego assessore mi aspetti, l'assessore l'ho aspettato, si è presentato alle 13.30, ha giurato, è diventato cittadino italiano a Palermo e il pomeriggio è morto. Ha lasciato detto all'assessore e al sindaco io non potevo privare i miei figli del diritto di essere italiani. Io credo che sia questo l'ambito nel quale noi operiamo, un ambito che vive anche momenti di tragedia, momenti pesanti e noi siamo qui per esaminare ed approvare un provvedimento che cerca di riconoscere i diritti di cittadinanza, che non chiede a qualcuno di diventare diverso da quello che era, ma chiede a tutti di rispettare i percorsi di vita che ognuno di noi decide di avere. Conventi come siamo che il nostro obiettivo è di essere diversi, di essere orgogliosi, di essere diversi, ma di far di tutto perché la diversità non sia motivo di diseguaglianza. Coniugare libertà ed eguaglianza è il senso anche di questo provvedimento. È un provvedimento che consente a due persone che scelgono di vivere insieme, di non sentirsi continuamente braccati, continuamente marginati, continuamente in colpa perché hanno fatto una scelta di amore di vivere insieme. Io credo che impedire che questo possa accadere significa sostanzialmente immaginare che il nostro percorso di vita sarà un percorso di vita che ci rende tranquilli per come siamo. Parla di una persona che è sposata soltanto da 42 anni e che continua ad essere sposato e innamorato della propria moglie, ma che riconosce che la mia vita poteva essere diversa da quella che è stata e avrei voluto trovare un sindaco, un'amministrazione, il vicino di casa che rispettasse la mia scelta e che rispettasse una scelta di amore che porta due persone a vivere insieme, che li porta a vivere insieme non dovendosi mortificare con una persona amata con la quale si vive, si trovi in ospedale, non si può andare a trovare perché si è nessuna e un'estania rispetto a quel momento di sofferenza, di trovarsi emarginata rispetto al codimento di alimentari diritti di cittadinanza. Ecco io credo che sia questo il senso di prestazione, sia cioè il senso di dire che i percorsi di vita non possono essere considerati gli stessi per tutti e che ognuno deve essere rispettoso di percorsi di vita diversi. Poi, consigliere Figuccia, chi è nel giusto e chi è nel torto, lasciamo che lo decida qualcuno che non è in quest'Aula e che non può certamente darci una risposta né via telefonica né votando. Io credo che sia questo il senso complessivo di questa presa di posizione, di questa scelta che io faccio con convinzione e la faccio con convinzione perché sono convinto che vorrei tanto poter un giorno dire ad un mio amico o ad una mia amica rispetto alla tua scelta di amore l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, chi rappresenta questa città non è rimasto indifferente, meno che mai non ha provato nei tuoi riguardi né disprezzo né marginazione. Questo è il senso di quello che qui si sta facendo, certo, se mi chiedete cosa bisognerebbe fare, tanto di più, molto di più, però come dire, questo possiamo fare e questo facciamo per dare un segno che non siamo disattenti rispetto alla libertà di tutti e di ciascuno e all'eguaglianza di tutti e di ciascuno. Grazie. Noi sindaco siamo in un paese che è l'Italia, in un paese che è al 99% cattolico, però dicevo, io forse l'avevo non mi ascoltato perché era di là, io non sono cattolico come lei, no? Io sono uno che crede in un Dio, in un solo Dio che certamente ci guarda tutti e ci guarda tutti in ogni momento. E dicevo pure che ero contento quando l'altro giorno l'ho vista in una foto con il Papa Francesco, persona che io, al di là del fatto che è Papa, che può essere, può avere qualche altro titolo religioso, con quest'uomo che stimo tantissimo, no? Perché testimonia ogni momento, ogni momento della sua vita che cosa? La semplicità, la semplicità. E quando ho visto lei in quella foto con dei bambini di Palermo sono rimasto molto, molto, molto contento, sindaco. Lei lo sa, dico, non ci stiamo conoscendo adesso noi. Per cui, quando oggi i miei figli e mia moglie mi dicevano, ma sai rischi tanto che può essere accusato di omofobia, una parola inedita, sindaco. Da qualche anno a questa parte c'è questa parola omofobia. Prima non c'era, non c'era. Io, caro sindaco, che ho quasi la sua età, ricordavo in queste ore una cosa. Fra qualche giorno io festeggio il mio quarantesimo anniversario di matrimonio. E ricordavo, lo dicevo a Giulio Cusumano e lo dicevo a qualche altro amico qua, eh, 40 anni fa, eh, l'ufficiale di Stato civile che in quel momento era, era un sacerdote perché mi sono sposato con un giudito cattolico, disse, ma voi potete dire, ma che c'entra tutto questo? No. Disse, la moglie segue il marito. Non mi sfottete, ragazzi. Non si possono per me. Eh? Non si possono per me. Io ascolterò tutto quello che voi direte. Ascolterò tutto quello che voi direte. Collega Figuicchi. Democraticamente. No, Presidente, io mi rivolgo a loro perché loro mi hanno interrotto e mi hanno pure deriso e lei non lo deve permettere. Lei non lo deve permettere perché ognuno qua democraticamente deve esprimere le sue opinioni e io le sto esprimendo. Scusate. È un momento difficile questo per me. Difficilissimo, Sindaco. Perché io non so essere come Giano, quattro facce. non so essere. Sono quello che sono, sono così. Io sono un integralista che crede tanto nelle cose che io e lei, che abbiamo più di 60 anni, abbiamo imparato. Diceva Giulio Cusumano poco fa, Giulio, tu sei cresciuto in una famiglia con certi valori. Certamente se tu oggi non fossi cresciuto in quella famiglia che ti ha insegnato tante cose, tu con ogni probabilità non saresti un avvocato. Se non ci fosse stata la tua famiglia non avresti fatto il consigliere comunale, non saresti qua. Per cui ecco, quando io e lei, Sindaco, crediamo nei valori della famiglia, crediamo in tutte quelle cose che ci hanno insegnato i nostri genitori, forse perché abbiamo qualche anno in più di qualcuno di questi giovani che sono qua attorno. Sindaco, abbiamo fatto un'autogolla. Oggi la città di Palermo, in questo momento mi dispiace per lei, Sindaco, in questo momento la città sta facendo un'autogolla. Potevamo aspettare un altro momento. Possono pensare a tutto quello che vogliono di me, mi possono accusare di omofobia, lo facciano pure. Possono anche ridere se vogliono. Questo è quello che penso. Comunque vi ringrazio per l'opportunità che mi avete dato oggi per avere potuto esprimere il mio pensiero su questo tema. Con ogni probabilità rimarrà l'unico fra tutti. Perché, caro Sindaco, è possibile che io rimanga l'unica voce in questo momento. Però è pure vero, caro Sindaco, che il giorno 26 dall'Assemblea regionale siciliana partirà un corteo verso la cattedrale cattolica di Palermo, dove ci saranno tante persone. La invito a venire, Sindaco, visto che lei con ogni probabilità parteciperà al Gay Pride ed è stato promotore di questa iniziativa di oggi, Sindaco. Perché, caro Sindaco, diceva al Presidente, io sono rimasto troppo male che ieri non sono stato invitato alla riunione che c'è stata. Non è certamente colpa del Presidente, forse non è colpa mia. È successo. Tuttavia, Sindaco, se lei è qua ad oggi, non spero che sarà il giorno 26 con noi. Comunque io questa delibera non la voto. E devo decidere ancora se uscire dall'aula al momento del voto oppure votare contro. Più in là mi determino. Grazie, consigliere Figuccia. Vinci. Sì? Ho ripetuto perché lei era emozionata e non si è sentito consigliere. Lei era emozionata e non si è sentito bene. E allora, l'atto è approvato con 36 voti favorevoli. 3 no e un astenuto. Vi chiedo, prima di dichiarare che è stata una bella giornata di politica e di Consiglio Comunale, mettiamo in votazione l'esecuzione immediata dell'atto e diamo la votazione per come sopra. Grazie a tutti. La seduta è chiusa.